L'incubatrice di internet. Basta questa definizione per rendere interessante la ricostruzione della storia della regolamentazione di internet negli Stati Uniti d'America. Nel percorso che ha fatto la rete al di là dell'Atlantico sono riconoscibili determinati periodi che hanno plasmato l'ecosistema digitale nel quale vivono i bit a stelle strisce. Ecosistema nel quale si è poi inserita l'avventura del primo presidente afroamericano della storia statunitense. La parte conclusiva della sezione sarà così dedicata all'analisi dell'uso di internet da parte di Barack Obama sia durante la campagna elettorale sia l'indomani della proda alla Casa Bianca.